mai come in questo caso tutto potrebbe essere nelle mani di chi ne tutto intendo tutto il campionato addirittura lo scudetto Juventus e Napoli potrebbero essere le due squadre penalizzate per questo campionato per quanto riguarda la questione plus valenze sappiamo già la Juventus che cosa sta attraversando ma anche il Napoli rischia il suo prima di approfondire questo video io vi ringrazio tutti per esservi iscritti per continuare a iscrivervi e continuare soprattutto perché l'iscrizione è importante sì fa piacere la cosa più importante è interagire con voi quindi il fatto che voi commentiate scrivete le vostre opinioni mi fa molto piacere perché posso così interagire con voi intrattenermi mi fa piacere e ci tengo molto a rispondervi non riesco a rispondere a tutti voi perché scrivete in tantissimi però io provo a rispondere a tutti voi detto questo se non l'avete ancora fatto per i nuovi iscrivetevi al canale attivate la campanellina e mettete un bel like a questo video perché è una bomba anzi prima di cominciare con il video vi invito pure a condividere il più possibile questo video partiamo con il vero e proprio contenuto la juventus che già una penalizzazione l'ha presa adesso poi andremo a vedere alcune come che finirà crea un precedente molto scomodo il napoli è molto preoccupata perché 12 sono stati i mesi chiesti per il presidente della orentis per quanto riguarda il caso osi man ve ne ho già parlato in qualche video giustamente i media non danno molta importanza però adesso le carte sono arrivate sono arrivate sulle scrivanie il caso si man lo scambio tra il napoli anzi l'acquisto del napoli dal ligue squadra francese per un totale di 91 milioni fatto nel 2020 nel luglio del 2020 il 31 luglio del 2020 operazione per 70 milioni di euro cash osi man e più una contropartita di quattro giovani che dovevano passare dal napoli al ligue questi quattro giovani per un totale di 20 milioni di euro ricordiamo ragazzi che mai avevano giocato nei professionisti addirittura uno valutato 7 milioni di euro giocatori che nessuno conosce comunque sappiamo che nelle plus valenze nessuno può dare un prezzo ai calciatori quindi anche lì ci potrebbe ci potrebbe anche stare ricordiamo però che per questo fatto qua per il fattore proprio osi man teoricamente il napoli come la juventus per la questione plus valenza era stata assolta insieme alle altre dieci squadre la juventus poi sappiamo tutti che è stata da parte di chinè richiesta la riapertura del caso e adesso anche la penalizzazione di 15 punti 9 erano stati chiesti da chinè e gli altri 6 sono stati aggiunti dal dal giudice ma qual è la novità visto che loro già sono stati assolti per queste per queste accuse chiamiamole chiamiamole così la novità è che adesso alla sulla scrivania del pm chinè è arrivata una una un'intervista fatta da uno di questi calciatori adesso vi vado a dire anche il nome eccolo qua luigi liguori uno dei quattro calciatori questo si chiama luigi liguori che doveva andare a ligli invece purtroppo non c'è mai andato e ha rilasciato alla quotidiano la repubblica un'intervista dove ha raccontato la sua la sua storia intervista che è andata a finire direttamente nella scrivania del nostro pm chinè che sappiamo tenere molto a cuore le questioni di plus valenza almeno nel caso della juventus i quattro giocatori che il napoli avrebbe dato in cambio come contropartita più 70 milioni di euro circa però si si chiamano sono oreste carnesis claudio manzi ciro palmieri è proprio l'ultimo luigi liguori l'ultimo calciatore che purtroppo ci è rimasto talmente male che ha deciso di rilasciare un'intervista di raccontare proprio che lui a liglia non c'è mai andato nemmeno nemmeno per firmare un'intervista che mette nei guai molto probabilmente l'aurelio de laurentis perché da come vediamo ha guerrito il nostro pm chinè io penso che anche in questo caso farà la stessa cosa cioè c'è andrà giù pesante perché ormai con il caso juventus si è creato un precedente e non può passare passare sotto banco quindi se si è usato il pugno di ferro di ferro con la juventus dando addirittura sei punti di penalizzazione in più a quelli che l'accusa avrebbe chiesto in questo caso io penso non ho la verità in mano che ci possa essere la possibilità di una mano pesante altrettanto per il napoli così come è stato per la juventus che cosa vorrebbe dire questo qui beh vorrebbe dire che questo campionato è tutta sorpresa perché tutto potrebbe essere deciso anche se noi sappiamo ma lo sapete tutti che napoli proprio per questa inchiesta qua ha chiesto sei mesi di proroga e gli sono stati acconsentiti per poter preparare la difesa in questi sei mesi naturalmente il campionato finirà e si assegnerà un vincitore però nel caso il napoli dovesse essere dichiarato colpevole le sanzioni si ripercorterebbero a questo campionato cioè all'ultimo campionato giocato questo qui anche se momento in cui darebbero la sentenza campionato già finito potrebbe essere che il campionato se come sta andando avanti in napoli meritatamente lo vincesse potrebbe potrebbe succedere quello che è successo nel 2006 revoca dello scudetto è consegnato alla squadra che si trova dietro in questo momento dietro si trova l'inter il mio pensiero mi viene anche un pochettino da ridere perché non è la prima volta che succede siamo abituati ormai a vederne un po di tutte è pensato se questo scudetto del 2023 dopo una cavalcata impressionante del napoli dove ha insegnato calcio tutti questo scudetto dovesse essere consegnato a tavolino all'inter avrebbe veramente dell'assurdo ma tutto può succedere perché abbiamo visto chi ne comunque come ho detto prima non ci va molto leggero per quanto riguarda le questioni plus valenze per lui i campionati sono falsati se tu dai un prezzo troppo elevato a un calciatore rispetto che a un altro figuriamoci se tu valuti 20 milioni di euro quattro giovani che non hanno mai giocato nel calcio professionistico e questi quattro nessuno di questi quattro va effettivamente nella squadra con cui tu hai concordato il contratto detto questo ragazzi che dire tutto il campionato lo scudetto del 2023 è 2022 2023 è nelle mani del pm chi ne è chissà come andrà a finire questa è un'ipotesi assurda ma che potrebbe succedere quindi tutto è nelle mani sue chi ne è hai creato un precedente richiedendo la riapertura del processo plus valenza della juventus soprattutto solo e quando è esclusivamente per la juventus adesso che ci sono addirittura l'intervista che è una ammissione da parte del calciatore che doveva andare a lì a lì in cambio insieme a altri tre giocatori più 70 milioni in cambio di un osimene che sta uccidendo il campionato naturalmente se così forse che il napoli non riuscisse a dimostrare che non c'è niente di illecito in quello che hanno fatto un calciatore come si man che ripeto sta strameritando di uccidere il campionato teoricamente non potrebbe giocare con il napoli quindi il napoli andrebbe incontro a delle sanzioni molto 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 probabilmente più pesanti di quella della juventus perché mentre per la juventus si parla di valutazione gonfiate per il napoli si tratta proprio di illecito sportivo perché tu hai messo a bilancio in vendita dei giocatori che poi alla fine non si sono mai mossi e c'è pure la testimonianza di questo ragazzo qua che non ci sta detta sua da passare da pedina detto questo ragazzi il video finisce qui io vi ringrazio tutti se siete arrivati fino a questo punto vi ricordo di condividere che è più importante che iscrivervi al canale condividete il video poi se volete iscrivetevi al canale naturalmente un like che lo mette sempre e attivate la campanellina così i prossimi video che farò vi arriverà una bella notifica e non li perderete detto questo un saluto a tutti ciao io